L'obiettivo è di riorganizzare il partito nella consapevolezza che la politica è fatta di territorio, è fatta di rapporti con la gente e con la gente noi intendiamo recuperare in modo pieno e profondo le ragioni di un confronto per definire i progetti e per selezionare una nuova classe dirigente. In sintesi, nelle parole del senatore D'Ambrosio Lettieri, gli obiettivi dei conservatori e riformisti. Riappropriarsi del territorio e Monopoli è la prima tappa di un tour che coinvolgerà tutta la Puglia dove si sono ritrovati parlamentari, consiglieri regionali e comunali, amministratori e simpatizzanti. Nel centro-destra ribadiscono ma con un'opposizione costruttiva. Non un centro-destra che urla e grida solo contro gli immigrati, o un centro-destra come quello che cerca accordi sotto banco con il premier Renzi. Noi vogliamo un centro-destra invece che parli di meno tasse, che si avvicino agli imprenditori perché solo così si può ricreare lavoro. Nessuna preclusione ma responsabilità anche all'interno della regione. Emiliano ha chiesto la collaborazione del Consiglio riconoscendo l'importanza della sua azione di governo, un guanto di sfida che non significa prestare il fianco alla maggioranza. Anzi. Fuori dal battibecco sterile inconcludente, noi vogliamo essere un'opposizione di guida piuttosto che di grida. Noi abbiamo la presunzione di poter guidare anche l'azione di governo per poterla indirizzare alla risoluzione dei problemi della gente e alla crescita del territorio. Restando radicati nell'opposizione? Questo è certo.